Sono ormo? Beh. Magari ci curava... pare che ormai passa il giorno. Qui c'è il cane? Il gatto? Allora, andiamo? Niente. Niente. E qui arriva a pescare per la grazia. L'ho avuto abbastanza di questo. Questo è avuto lungo. Mi ha fatto il centro di attenzione che non ho bisogno a una partita che non voleva. Quindi cosa vuoi adesso? Per tagliare il cane? Magari, aspettate. Bene, io farò tagliare il cane! Perché non si è tagliata ed esplosa? Io sono strettato. Sposta da un sacco del canale. E bravo. E... bravo. Voglio sempre fare questo. Cosa fare? Spanare un sacco del canale così difficile che si esploda. Perché voglio fare questo? Mi sono complicate le senti sul canale. Cosa? 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 Smaschere una caccia che qualcuno ha fatto per me? È proprio brutto. Tu potresti fare la vostra caccia. Non ha il stesso appello. Carol. Steve. Per il vostro annone, ti faccio una caccia. Sì, continui. Tu hai la mia gratitudine di smascherela in un'espai. Ma poi ci siamo downi una caccia di caccia di annone. Io faccio anche due. Seconde è per farvi. E' lì, eh, in teoria. Ok, è esplosa, ma... Praticamente non ha sporcato niente. Ok, sentiamo Nico. La tua parte stessa non è di alcun aiuto. Ok, sia tutta colpa tua. Proviamo questa. Lo faccio ad andarci se tu non puoi farlo. Se tu asistirai una cosa, non io. Proviamo a vedere. Vediamo se ci andiamo. No. No. come è diverso da le nostre attraverso il limbo? lo so molto come tu i luoghii potrebbero essere attraverso che il usual qual è il migliore modo per approcci la magia? mi sembra che sono la ultima persona che dovete chiedere sicuramente gli altri hanno alcuni consigli questo è una attraverso una attraverso? non dovrebbe essere una volta che trovi la magia lei può ottenere un portale per ti mandare spero di voi allora ha mencionato gli altri voglio vedere cosa gli altri hanno a dire non è difficile chiedere dimenticami quando sei pronto e ti mandare a limbo quindi... una fai fai? è stato io? avevo messo? avevo messo? avevo messo, non ho? è tutto il tuo culo vero? si ha chiamato una parola russiana sembrava come... try hard? e poi c'è una parola e poi c'è una parola cosa è uva quella ok vabbè noi l'abbiamo avvisata tra l'altro non ricordo male non ricordo male non ricordo che non 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 è ok dobbiamo star zitti Non faccio quello che io sempre faccio. E' proprio più difficile. I caution you this shall not resemble the leisurely jaunts you take from the wild cliffs any pointers if you find yourself upon a path do not stray from it especially if someone or something encourages you to do so and bring some hand sanitizer few realize our reality is the least seguiamo un sentiero anche se ci dicono di non se ci sono delle voci che ci attirano altrove poi quando la troviamo la lasciamo sfogare non gli diamo consigli niente zero proviamo grazie per fare questo, alcune domande o sei pronti ad andare? ok, mi mandi dopo la magia ok, non è niente quando il sangue è sfruttato, lascia la stappa di uno emergirà quando il sangue è sfruttato, lascia la stappa di uno emergirà la discorta il portale è identico? però va a magic man vai prezzatissimo set di attacco prezzatissimo set di attacco oh, sweetly oh, sweetly your birthday what an awful way to learn what your family truly thinks of you they don't love me they don't love me nobody does hmm I could never be as special as a queen now now that's a lie your family would tell you I am to know you're a very special girl before we go I have a question of course of course ask me anything my queen are some demon are you a monster? oh child I'm so much more than that I'm a friend the only one you'll ever need no combatta eh wait I will see I hope that the game of survival is pretty the first thing I liked not like is a job but is a good game I can imagine now that they have already some tools hanno già fatto esperienze con il primo magari io spero che secondo sia un passo avanti in quanto meno non qualcosa di meno ma qualcosa di più magari in longevità eccetera non saltano non sale se non vogliono la casettina lì casa nel bosco viene in mente il dead che in italiano ha diventato la casa parlava di distorsione eccetera boh è una caverna pensavo chissà che cosa strampalata prima di entrare raccogliare questo cos'è d'oro leggendario pallo pallido ambientalista bonus combattimento adesso troviamo la mano assassina niente raccoglievo palline e poi ho trovato anche un forziere carino qui fuori non so se l'hai visto ti ha dato un'occhiata comunque secondo me ho scelto il personaggio con la voce ci sta così con questa pettinatura dico sta malissimo per il fatto perverti messa in imbarazza lascia perdere come va torna poi chiedere tu stessa ho detto di non rispondere di essere cosa proviamo questa carta oh niente un demone che ti cercava di circuire ok ok bene credo che vedo perché ti sbagliate la tua bambina My deepest shame. You are the first beyond myself to know this. The first person, at least. The creature you heard brought me here. But my childish needs cursed me to this terrible place. I lost my childhood to one bad choice. I trusted a silver tongue instead of my own family. Allora se seguiamo i consigli di Stark eccetera La colpa tua dimmi cos'è successo Non dire niente Vediamo se parla lei Di due Adesso sarei tentato di dire questo Non sei più quella bambina Ah aveva detto no Non devo per forza andare via Ok ma come torniamo Lasciamo la sua dai Non era quella giusta Cioè praticamente da piccola lei nel giorno del suo compleanno è stata circuita da questa specie di demone Che la elogiava eccetera E è finita nel limbo Per questo E quindi lei dice Non mi va di festeggiare il compleanno perché festeggerei la mia debolezza Dove devo avere una reggira perduta Devo andare questa stanza a mia famigliare Perché questo sembra come la tua sala in l'abbi Non sembra Ma la mia sala in l'abbi sembra come questa Ma la mia famiglia in l'abbi sembra in l'abbi sembra in l'abbi sembra in l'abbi sembra Emilia Could you tell me about the creature you mentioned Something I hope you never had the misfortune to meet I can't say no more Cosa non? Si sapeva quando si parla il nome. Non mi riusco a dare questa soddisfazione. Cosa è successo? Un'esercizio, di una sorta. Un'esercizio? E' un'esercizio mia. La creatura ha detto molte cose strane di te. Cosa è vero? Non. All were lies to manipulate a stupid child. The creature brought me here to rule this place, but not as I do now. It desired a servant. Loyal, unthinking. A stupid child who believed its lies. I took great pleasure in disappointing it. I should get going. I will open a portal for you. Good night, Magic. See you, Hunter. Che tipa difficile. Qualcosa... This birthday was no good, but you kept it from being awful. Eh, grazie. I should get going. See you, Hunter. Ok, ancora. Yes, Hunter. I had some more questions. You are welcome to ask. Welcome. Love it. Ok. I should get going. Wow. Ok, almeno non c'è più. Vedete, qua. Vedete, non c'è più altro qua. Questa è la specie di luce che tradiscono un po'. Oh, siamo lì. A parte che non ci vale. Ok. Vabbè, torniamo. Gli altri sono svaniti. Le porte sono chiuse. Sono passati attraverso le porte. You were gone for so long. Did you find magic? Tutto tempo. I did. She is going to spend the night in limbo. Is she doing all right? Is she mad at me? She is fine. We had a lot of fun. You did? No. Giardo. Chi ti ha autorizzato a raccontare bugie? At least her birthday ended on a high note. That's all that matters. I can't thank you enough for doing this. Don't know how this would have ended without you. Good night, Hunter. Good night, Nico. Notte. Pollare è raro. Pesca due carte. Per ottenere questo effetto gioca tre carte. Allora, finalmente ci hanno aperto le porte. Non siamo più in prigione. C'è qualcosa qua. Ok qua. Dai! Poi. Vediamo. Niente. Questo è riflesso, sembra... Obiettivi, non c'è niente ovviamente. Questa cosa. Niente, 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 niente. In teoria, da non dormire, Pai, dove ne dovrebbe essere curato, no? Ok, c'è un altro qua. Allora, si fa tentazione da guardare qua dietro. Boh, chissà se no... Se prima o poi troviamo qualcosa lì. Vabbè, qua bisogna vedere guardare se c'è qualcosa di nuovo, ma... Non sembra. Forse è qua. Sì, qua sì. Vabbè, se è solo quello, lasciamolo lì. Ehm, ovviamente qua... È ingreso. Chissà se ci sarà... Appare che non serve. Possibilità di fare più di una missione per giorno, magari, prima o poi, in qualche modo, ma... Alla fine non è che... Alla fine non è che... Vabbè... Qua... Wanda, Wanda... Ehm... Lì, lit. Adesso vai nel buco. C'è un simbolo in terra. Perita guarita. Buono scombattimento. Bello. Un po' rigide queste... 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 Diciamo, scene. Passaggio privato, pala con Agatha. Vabbè, è qua. E poi? Non è ancora passato... Hunter. You saw her, didn't you? Wanda. What does she want? Wanda? Com'è che l'ha pronunciata? Wanda? Se fosse una trappola... Non credo. Vabbè... È una famiglia, Hunter. Non possiamo lasciare la scuola. Inoltre, non possiamo vincere questa battaglia contro la tua madre senza la sua. Quindi trovi, Hunter. Travi la volta. Per tutto il nostro. Cosa ti faci qui, Hunter? Devi trovare i figli di Midnight Sun e salvare Wanda. E devi fare ora. Ok. Ehm... In teoria, appunto, non è ancora passato. Appare che è giorno, però... Avremmo dovuto... Ci sarebbe dovuto essere scritto, no? Che poi possiamo... ...arrivare alla Forza, no? Ok, è sempre parte della storia, insomma. Oh... Hydra Forces hanno preso la Sanctum, Tower, e la maggior parte dei migliori locali in Manhattan. E stanno facendo le moves. È una volta che abbiamo fatto lo stesso. Il nostro intel è attenzione a Lilith essere in la Sanctum. È lì che abbiamo bisogno di scuola. È stato lì, è stato lì, non è stato lì. 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 Non ti dimentichiare di Bruce. Non mai. Guarda, gli Avengers sono formati per una buona ragione. E io credo che i Suns sono anche. Non ho visto ancora una sfida che questo gruppo non può avvicinare. Quindi possiamo mettere le nostre occhi insieme. Vediamo un modo di fare l'impossibile. Se sei appena arrivato tu. Eh, sono praticamente... una coppia loro. La versione femminile. Molto ariani. Combattono l'Hydra, quindi. Allora... Ok, ci lascia... parlare con... il ragazzino qui. No problemi. Wow. Che te... è sparito qua. Dov'è? Ah! Che ce l'ha dato? Allora, vediamo un attimo. Wow, guarda dove l'hanno nascosto. Cioè, stiamo facendo più raccolta di palline. Cosa è che intende per... Ok, c'è l'indicatore là. Eh... messaggio privato su Sperlink. Poi, diamo un'occhiata che cos'è. C'è bisogno di farmi regali. Ma quando lo fai, lo apprezzo molto. Cioè, beh... Però leggendario, eh. Mi sento al massimo. Non è grave. Ma una voce amiche mi aiuterebbe. Un po' di tempo. Questa l'abbiamo fatta alla fine. Questa l'abbiamo fatta alla fine. Esatto. Questo, in questo caso, cosa facciamo? Ci vediamo stasera. Prima fammi salvare. Non voglio. Qualche sorpresa strana. Perché? La festa c'è stata appunto e basta. Allora. Ok. Niente. Se... E' andato tutto liscio. Vieni di sera quando... Ok. Se no vedici fuori la tua stanza la prossima sera in cui saranno... Questi sono tutti inviti che per ora... Penso che possiamo accettare quando parliamo. Ok. Eh... Torniamo di qua un attimo. Qualche pallina... Non sembra. Andiamo a parlare con lei... Ma forse è meglio aspettare. Perché magari poi si mette a parlare di Wanda. Di Wanda Marky. Si. Che tipo di mirror è questo ancora? Perché è una sensazione reale, evo queen. Ho detto. È una famiglia. Quindi è sicuramente evo. Non mi metto in quella cosa. Non lo credo. Prima di essere un bambino, Blade. Sei evo. Il mirror è evo. Qual è il problema? Eh... Goddammit, magic. Non sono evo. Quale sia il vampiro. Ecco, Blade. Non mi piace anche questo. Ma non abbiamo alcune altre opzioni. Se vogliamo salvare Wanda, bisogna andare in questo mirror. E bisogna farlo ora. Guarda cosa stanno facendo. Io ho scoperti. Non farete nulla. No. No. Non ci siamo passati. Beh, è giù gennavo non. Beh, è giù gennavo. Giù come... Ha giù gennavo. Trongi la porta. Torni che si mesura. Romi non vengare. Abbassate la macchina. focused on Wanda ego spiritus ad got it what did I just say do not break the connection ok sorry right this is how Atlantis sank ego spiritus ad may ego spiritus ad may no su serio vabbè oh she said not to break the connection well you just did ego spiritus ad may was that our fault I think so ad yo Nico 3 3, immaginavo, 3, missione, che poi è un gesto folle perché non sai cosa può capitare, l'esplosione nucleare,